A me sa, ci eriamo, parli un po' di chi sei te, delle tue esperienze, della vita e poi perché. Se hai un po' di arte, tu non metterla da parte, a me sa, ci eriamo, chi sei te. Salve e benvenuti. Oggi per la serie Arte Utile voglio parlare del critico Vittorio Sgarbi. Il critico Vittorio Sgarbi, a mio avviso, è sopravvalutato. La gente che nulla sa di arte e soprattutto nulla sa di vita, con molta facilità, dice, è una persona molto intelligente, ne sa molto di arte. Ma il giudizio del genere si presuppone che in chi gli dice ci sia una conoscenza dell'arte e una competenza dell'intelligenza notevole. Perché se tu sei molto intelligente, poi riconosci un'altra persona intelligente. Se sei un genio, poi riconosci un altro genio. Per cui le persone aprono la bocca con molta facilità e dicono perché Sgarbi ha una bella presenza, parla bene, è un buon imbonitore. Ha anche un certo gusto estetico, non sto dicendo che sia un blef completo. Cioè, fra i vari critici d'arte, vale la pena di parlare di lui, di tanti critici d'arte, tipo Achille Bonito Liva, o Claudio Spadoni, tanti altri. Non ne parlerò mai perché non esistono come critici d'arte. Sgarbi un pochino esiste, però è sopravvalutato. E chi sono io, no? Chi sono io per poter denunciare sgarbi di iniquità artistica? Sono uno che ha un'esperienza. Che ha un'esperienza. Adesso, non tanto per voler parlare di me, ma per poter dare peso alle mie parole, che dirò, devo dire un attimo alcune cose. Cioè, perché la prima volta che mi sono accorto che Sgarbi era un po' un patacca, è successo nel 1987-88, non mi ricordo esattamente l'anno. In quel periodo io avevo conosciuto Tonino Guerra e ho collaborato con lui per due o tre anni in maniera molto assidua. ho organizzato molte cose per più di tanta altra gente che ha fatto delle cose con lui. Lo frequentavo molto da vicino. Mi ricordo che io, la mia ex moglie, Tonino e Laura, la sua moglie attuale, passavamo l'ultimo dell'anno insieme a casa sua, a Sant'Arcangelo. Per cui, questo per dire che eravamo veramente molto intimi. Allora, Tonino Guerra, aveva iniziato a collaborare a Penabilli con delle sue iniziative artistiche, mostre che erano collaterali alla famosa esposizione fiera dell'antiquariato di Penabilli, dove da anni molta gente da tutta Italia, anche dall'estero, veniva per vedere i mobili dell'antiquariato e magari anche fare mercato, comprare, eccetera. Perché è tuttora un'iniziativa sull'antiquariato fatta molto bene, di qualità. Quel giorno aspettavano che arrivasse Vittorio Sgarbi che stava cominciando ad avere successo perché andava da Maurizio Costanza, eccetera. E arrivò di sera, tardi, e mi dissero la mostra dell'antiquariato. E mi dissero come si comportò nel vedere questa mostra dell'antiquariato. E mi dissero, camminando in mezzo ai mobili antichi, diceva quello è buono, quello è falso, quello è buono, quello è falso. E io ho detto, mmm... Qui c'è qualche cosa che mi puzza un po'. Cioè, tu Vittorio Sgarbi facendo così hai voglia di fare un po', come si dice qua da noi, patacca, quello che ne sa. Perché chi sa di antiquariato, io ne so di antiquariato, perché è stata la mia accademia. Io ero un ragazzino di 14 anni quando entrai nella bottega di ristauro di Guido Cantoni di Ravenna, una delle pochissime botteghe che c'erano sicuramente in Emilia Romagna, che è stata la mia accademia. E io so riconoscere i mobili originali dai mobili falsi. Perché li so riconoscere? Perché ne vedo semplicemente la forma? Ma no, non è sufficiente. Perché tanti antiquari riconoscono dalla forma l'epoca, il secolo, la provenienza, tutte queste cose qui. Ma molti, e ve lo dico per esperienza, molti antiquari si sono presi delle sole perché non hanno mai fatto il restauro. Ed è il restauro che ti fa capire dove l'oggetto è stato rimaneggiato, che cosa è buono, che cosa è stato rifatto. Per cui se tu vuoi vedere che un pezzo d'autiquariato sia autentico o meno, ti fermi e lo guardi con attenzione. E a un certo punto vedi in dettaglio una cosa dalla quale arrivi alla conclusione di stabilire se è autentico o è falso. Non camminando in mezzo ai mobili e dire quello è buono, quello è falso, quello è buono e quello è falso. Per cui questa è stata la prima volta dove Vittorio Sgardi mi è apparso un po' un patacca. Poi lo vidi in una trasmissione con Maurizio Costanzo dove anche lì il tema era l'originale e il falso e lui era tra gli ospiti. Entrò un personaggio con due orologi cartier, mi ricordo, due orologi cartier. Entrò dalla porta, lui era seduto e mentre il tipo avanzava con i due orologi, un cartier originale e un cartier falso, disse quello è buono e quello è falso. E il tipo disse, ma veramente è il contrario. E allora gli hanno fatto vedere da vicino e hanno detto, vedi, quello che tu hai detto che è buono è quello molto superlucicante, quello molto lucicoso. In realtà l'originale è più modesto, è meno chiassoso, no? E ora gli sgarbi disse, ah già, già, è vero, ad un'osservazione più attenta si vede che questo è l'originale e questo è falso. Ah, diceva Totò, ah, baccalà, ad un'osservazione più attenta. Perché non fai un'osservazione più attenta? Perché hai la fregola di apparire un Superman, uno che ne sa a pacchi, umiltà zero. Passiamo ad un'altra esperienza che ho avuto personalmente con l'Otto Sgarbi. Mi sembra nel 2004, 2005, non mi ricordo esattamente l'anno. Ci fu un anno dove Elena Miró, una stilista di moda specializzata nell'abbigliamento per le taglie forti, le donne un po' in carne, diciamo, istituì un premio di pittura d'arte con lo scopo di valorizzare la donna in carne. E Vittorio Sgarbi fu chiamato come Deus Machina, quello che doveva decidere tutti gli artisti. Io partecipai al concorso, mandai una fotografia di un fotomontaggio di un mio quadro messo nello sfondo della scultura Solaris. Vittorio Sgarbi mi selezionò fra i 500 che poi furono invitati a Milano alla premiazione finale, ospitati in albergo, un'organizzazione eccellente fatta dall'istituzione di Elena Miró. E arrivamo al giorno della premiazione. quando stabilisse i tre vincitori io rimango perplesso, non perché non abbia premiato me, perché io non avevo neanche presentato un quadro, avevo presentato un fotomontaggio che però aveva come soggetto una donna un po' in carne, Solaris appunto. Rimango perplesso perché ha premiato al terzo posto una ragazzina di 16 anni che aveva presentato un quadro formato da tanti piccoli dettagli di una donna qualsiasi dove le dita la bocca un occhio la donna in carne non si vedeva per niente non si vedeva per niente e in più quando Sgarbi vide che aveva premiato questo quadro che era di una ragazzina gli disse ah ma se avessi saputo perché era carina no? se avessi saputo che eri tu ti avrei fatto vincere il concorso io disse oh! non solo non c'è tra un cazzo con il tema per il quale sei stato chiamato cioè valorizzare la donna carne no? ma addirittura l'avete fatta vincere perché era una bella ragazzina il secondo premio che lui diede lo diede a un disegno piccolo tipo un francobollo fatto direi appena biro fondamentalmente di una donna appena bozzata un po' con dei capelli così non dico filiforme ma normale ma un francobollo qui il secondo premio e il primo premio lo diede a un quadro bello eh per carità bello ma di una ragazza normale stesa non mi sembra una poltrona così però nulla aveva a che fare con la donna in carne allora io mi sono detto ma Sgarbi cioè come cazzo sei messo mi è stato chiamato per valorizzare la donna in carne di cui la storia dell'arte è piena di queste forme qui e mi premi delle opere che non c'entrano niente col tema e addirittura dici ah la ragazzina l'avrei fatta vincere sempre un patacca ma la cosa più importante è riferita a questa cosa qui e mi rende felice che voi abbiate aderito in tanti a questo premio e non tanto e non soltanto per me che in qualche modo sono stato il richiamo la lucciola ma perché credete che l'arte sia qualcosa che vi appartiene o che voi apparteniate all'arte naturalmente molte cose che avete fatto sono sicuramente inguardabili questo non cambia la vostra buona fede e anche forse talvolta l'eccessiva come dire considerazione di sé che molti di noi io stesso ognuno di noi ha una considerazione di sé ma forse non essere abbastanza esigenti come sono i veri grandi artisti rispetto a quello che si fa perché possa mostrarsi al mondo e invece molti sono insufficientemente esigenti mi auguro che potremo salvarvi tutti non sarà facile occorrerà misericordia occorrerà che avviate molta fede in me e io cercherò di salvarvi tutti 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 grazie io ho ricevuto il premio Michelangelo istituito da Vittorio Sgarbi che mi è stato dato nel giugno del 2021 perché io ho aderito a questo premio ho aderito a questo premio perché sapevo benissimo che sarebbe stata una patacca prima di tutto perché per partecipare al concorso devi pagare e io ho pagato 174 euro e l'ho fatto coscientemente perché diciamo che non è che gli ho teso una trappola però ho voluto vivere un'esperienza che potesse dare forza alle parole che io sto spendendo nei confronti di Sgarbi per ridimensionarlo riconoscendogli il valore artistico perché è un personaggio ma sopravvalutato bisogna ridimensionarlo anche come politico bla bla molto bla bla molto ma non è affidabile uno che una volta disse ah ma tutti quanti abbiamo un prezzo dipende no? da quanto ti offrono io gli ho detto no non tutti quanti abbiamo un prezzo non sto parlando di me che io penso di non avere un prezzo però magari se mi offro dei soldi potrei anche sputtare a me stesso su delle persone che non hanno avuto un prezzo Pasolini non ha avuto un prezzo e chi l'ha ammassato lo sapeva se no non lo ammassava lo comprava e come lui e tanti altri Socrate non aveva un prezzo se no l'avrebbero comprato e se tu Sgarbi dici che tutti quanti hanno un prezzo dire che tu sei uno prezzolabile comunque tornando a questa cosa qui io ho vinto questo premio non l'ho vinto solo io l'hanno vinto tutti quelli che hanno partecipato al concorso fatto da Art No qui ho messo il segnalibro di uno guardate qui che roba ditemi se sta roba qui merita il premio Michelangelo perché tutti quelli che sono messi in questo libro sono stati premiati questo sono io ce ne sono una marea di scarsi ce ne sono la maggioranza sono scarsi è un business è un business è un business è un business al quale Vittorio Sgarbi si è prestato io non so se riesco a risalire al video della pubblicità iniziale dove lui ha presentato il concorso ma se lo trovo lo pubblico in questo documentario il punto è che tu non sei un critico d'arte che fa bene all'arte tu sei un critico d'arte che si mette nel mezzo perché vuole succhiare dalla mamela dell'arte una luce che non avresti altrimenti per cui la cosa è vilente è che un personaggio che non ha bisogno di questi mezzucci di queste patacate alla napoletana con tutto rispetto per il popolo napoletano tu non sei un amante dell'arte tu sei uno che non ha credibilità non ci si può fidare di te tanto è vero che tu hai ossequiato Berlusconi fin dall'inizio in una maniera indegna anche se ogni tanto hai detto che ero rimbambito però tutte cose un uomo vero un artista vero non le fa per cui questo è quello che mi sentivo dire di Vittorio Sgarbi per cui tutte le persone che hanno visto il premio Michelangelo che mi è stato dato che io ho pubblicato all'inizio lasciando credere che mi è stato dato solo a me no? solo a me hanno detto oh sto però notevole Vittorio Sgarbi ha riconosciuto Montelli eccetera sapete che cosa vuol dire? vuol dire che voi non avete la capacità di intendere e di volere avete bisogno di qualcuno che vi dica se quello che avete di fronte vale o non vale vi emoziona o non vi emoziona e questo è gravissimo delegate il vostro potere estetico di reagire di fronte alla bellezza a qualcun altro fate della vostra vita mettete una religione mettete un prete nel letto dove voi andate a dormire a coricarvi a fare l'amore con la vostra dolce metà quando non ce n'è bisogno non hai bisogno di un terzo nel letto che ti dica che ti traduca la bellezza del patne lo capisci da solo se una persona ti piace o non ti piace lo capiamo nella vita istintivamente da soli se ci piace un vestito un paio di scarpe un film lo capiamo da soli nonostante che c'è sempre qualcuno che non è in grado di fare nulla che si è già critico ti spiega a te quello che ti deve piacere o non ti deve piacere beh queste sono cose che fanno parte di questi tempi bui che sono destinati a schierirsi perché stiamo andando verso un'alba piena di luce e piena di verità e la verità ci rende liberi perché ti fa vedere le cose come stanno o quando tu vedi le cose come stanno le trappole non sono più nascoste perché non ci casi più dentro ma sei libero di aggirarle e fare il tuo percorso e andare dove ti senti attratto senza mettere in pericolo la tua vita o farti rubare il portafoglio qui finisco con il mio ridimensionamento di Vittorio Sgarbi perché va ridimensionato e sono contento di aver dato un altro contributo all'arte utile perché l'arte è utile è utile alla consapevolezza che ognuno di noi può aumentare nel viversi e apprezzare la propria esistenza che a tempo determinato c'è un orologio che un giorno si ferma e tu non sarai più ospite in questo palcoserico terrestre il tuo quarto d'oro di celebrità sarà finito per cui spenderlo al meglio essere lucidi ti permette di non mancare il grande spettacolo di cui tu fai parte e nel quale sei stato messo dentro facendoti un onore che non meriteresti assolutamente ho finito vi bacio improvvisamente è stato in campana quando Vittorio Sgarbi parla dico l'ultima cosa poi chiudo veramente c'è uno sketch che Petrolini fece su Nerone eccetera dove giocava con la folla e il popio diceva bravo 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 a tutto il punto Petrolini si gira verso la macchia da aprire e dice vedi basta che sei bravo una volta sei bravo sempre e invece non è vero puoi essere bravo quella volta lì ma la volta successiva se non sei bravo non lo sei ma per poterlo riconoscere devi essere svegli per cui sveglia non lo mettere allora come sta giriamo ci svegliamo Grazie a tutti.